Scudo di luce! Lo scudo proteggerà la miniera, ma non per molto. È il momento di agire. Blu-Bans! Oh no! Blu-Bans! Per tutti gli uragani ci sono più soldati qui che a un matrimonio dei Darkan! Zot! Questo è di sicuro quello vero! Prova di nuovo, testa calda! Ai tuoi amici non resta ancora molto tempo! Oh, hai intenzione di usare quel giocattolino contro di me, guardiano? No, ma sparerò contro qualunque cosa e di tutto! Il sistema di difesa! Sei solo un folle! Addio, Xat! Ah, ok! Sta caricando la fortezza di Voidus! E tra non molto colpirà sicuramente la torre Mega! Ma non può farlo! È ancora tutta luminosa e nuova! Ahoghi, è una follia! Dovete fermare il Guardiano Oscuro! Non possiamo farlo! È una nostra amica! Ti stai sbagliando, Gormiano! Lei è una Darkan Abess! Guarda! Sotto, Bo! Gli escudi della torre Mega! Guardate! Aoki li ha spazzati via! Energia! Del fuoco! Combatti, Lord dei Gormiti del Fuoco! Carriol! Ora i tuoi problemi si sono moltiplicati! Ottimo lavoro, Riff! Vedo che padroneggi l'ultraconcentrazione! Magma Blast! No! Non dirlo! La tua spacconaggine! Gormiti, Gormiti, raggiungibili! Chi mi fermerà? The legend is back! The legend is back! Gormiti! Gormiti!